Io faccio tanti auguri a te e alla tua signora di una buona riuscita per questa trasmissione che vedo che la conducete meravigliosamente bene e non credevo e non credevo e faccio tanti auguri alla vostra orchestra, so che avete una gran buona orchestra e costruite un gran buon lavoro. Perfetto, tanto ci inconteremo per le strade dell'Italia. Allora come al solito la mia curiosità mi porta per qualche secondo, io credo che la regia me lo conceda, a conoscere velocemente i componenti dell'orchestra perché sono sempre d'accordo sul farli conoscere, tu sei? Livio, violinista romeno. Ah romeno, benvenuti in Italia, welcome to Italy, che americano, da quando sono stati in America. Adesso sono stati in America ragazzi. Ok, ok, mannaggia mi sembravo eh, tu sei? Paolo. Paolo? Di Ravenna. Ma sei di Ravenna, questo è romagnolo invece, bravo. Tu? Renato Rimini. Renato Rimini, non è il cognome Rimini, viene da Rimini eh, tu? Patrizio Cattolica. Patrizio di Cattolica, anche noi abbiamo un Patrizio, tu? Claudio di Cattolica. Claudio, dove c'è il castello di Paolo e Francesco. Poi abbiamo un pescatore ecco vorrei che tu sottolineassi, qui tu oltre che essere un carissimo amico, un bravo batterista e anche un bravissimo pescatore. Sì sì infatti. Un po' meno tu però eh. Eh bravo, bravo. Giovanni da che te o mai. Bravo, bravo Giovanni, ha detto la verità e lui non vuole. Tu sei? Guido di Pioppa. C'è un altro rosso, Pioppa di Cesena eh. Pioppa di Cesena. Ciao Guido. Livio che abbiamo già conosciuto. Livio da Calabrina Cesena. Ancora tanti complimenti per la tua voce. Lei non abbiamo sentito la tua voce però Ivano la prossima volta vogliamo dare lo spazio che merita eh. La sentirei quest'altra volta in quanto che è entrata ieri sera per la prima volta. Ah allora benvenute, tanti auguri, in bocca al lupo. E poi abbiamo l'ultimo musicista. Pippo da Bellaria. Pippo? Hai la faccia da Pippo eh. Un pochino da Bellaria. Bene. Non volevo offenderti eh. Allora un grazie di nuovo al maestro Nicolucci e tutta la sua orchestra. Questa la tengo io, poi dopo te la rendo. Adesso perché dovete ancora regalarci un'altra canzone. Una canzone, poi abbiamo una sorpresa visto che hanno una canzone dedicata al Natale. Esatto. Ma ne parliamo dopo. Intanto quella carina che per me non è adatta. Quella che hai detto che sta avendo un ottimo successo. Ah, è la bella cicciotta. Eh. La bella cicciotta parla della tipica. Romagnola. Donna formosa romagnola. Sì. È il tipico romagnolo. Con due belle. Quella che piace agli uomini insomma. Con un bel seno. Indubbiamente. È stata paragonata la bella cicciotta al sangiovese. Ah beh insomma non è ma corposa come il sangiovese. Corposa, bella. Saporita come l'ua del sangiovese. Bravo allora. Bravo direi che、 è la bella cicciotta è il mio cibo. Amico nord. Oh, magnola. Will bella cicciotta. Il sangiovese. Il sangiovese demande. Dandala tu, bocca fresca, par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Adopo su da cira una babena, e se nandè mascola totide. Con caldo petri sogni o un glaschina, me anzo sem parte la fata par me, ora tazzi fata una bella cicciotta, con chi due bei titon chi un fe un paè. Quasi tre volte ed è, mi adag la bota, sare sempre par par me, la mia bella cicciotta. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io. Par la campagna tetvi, con al giulia la sesta, si piovela dunque io.